Avete visto un tiro stagliato da Chavez che è passato di poco alto. La partita Italia-Uruguay, bellissima l'azione di Moreno, ancora con Moreno che manda al centro un pallone, fuori area Alvarez, poi arriva Bergomi, Collovati ha respinto e Di Gennaro allontanato. L'avversario e poi fa partire un bel tiro atteso ma alto sulla traversa, il tiro di Conti dopo 15 minuti di gioco. E il Quebla va in gol con un primo colpo di testa di Plata e poi la realizzazione di Mottoso, anzi di Acevedo, un Quebla 1, Italia 0. Mottoso, Plata, affinata molto bella, Moreno, il tuo tiro è parato da Pordon un momento prima dell'arrivo di Mottoso. Il tiro di Conti che va a fiorare e sarebbe stato imprendibile il palo della forza messicana. Scusa l'azione dei nostri avversari, bellissimo il tiro di Conti ad effetto, guardate come rientra. Conti che tenta il tiro, hanno tanta libertà, bello il tiro. Il tiro è stato di Giordano, ecco avete visto il secondo calcio d'angolo, trasforma subito la difesa in offesa. E Pordon deve ancora tuffarsi sul tiro da lontano di Romano. Il tiro di Di Gennaro, di Altopendi. Intanto il portiere in uscita ha travolto un suo compagno che è rimasto a terreo, dovrebbe trattarsi di Orozco. E la parada di Pordon, in tiro, mentre era insidiato da Acevedo. Orozco con un pallone che va a fiorare l'incrocio dei pali. Gennaro, bello il controcroft di Gennaro, che è diventato un tiro difficilissimo, che il portiere Morales devia in calcio d'angolo. Fortunato Altobelli, che riesce a mandare verso la porta Bagni. Ancora deviato il tiro di Bagni ed è un altro calcio d'angolo, il sesto. Tiro di Bagni. Finito il primo tempo, la palla a Giordano. Non potrà essere messo nessun giudizio per la nostra squadra. Manda tutti a riposarsi, a rinfrescarsi, a riordinarsi dei dei. I Altopendi, molto bello, che fa da ponte per il gran tiro di Figgio e Di Gennaro. Tiro di Di Gennaro fortissimo. Palla a seguire, senza il pallonezzo, Punti, mette in difficoltà il portiere Morales. Costituzione esce mostoso e a suo posto entra Quotolingo. Romano, il giudizio di Romano e Sancredi impedisce il raddoppio. Bagni, Moreno. Messo giù, calcio di rigore. Stanno su Fricchella. Fondazione e calcio di rigore, favore degli attori. Per la pista, grande risi, pareggio. 32esimo, calcio di rigore, pareggio di Calderisi. A Ceredo, Caraventa in parolaterale. Entra lo Sena per noi. Calderisi. Fondamento di Calderisi, molto bella, intelligente, ma il portiere si allunga. Minizioni in favore del Puebla. E Vierkovo deve restituire a Moreno il pallone che aveva subito Dolcena. Mentre Fricchella viene espulso per dubbia ammunizione. Fricchella ha allontanato, anche l'arbitro è un po' fredda del caldo. Traversa, molto bello, il giro di Romano. Colpisce la traversa. Contro fra Sancredi e Moreno. Bella parola di Sancredi sul tiro di Quotolingo che poi spinge alle spalle Righetti, ma riesce a liberare. Ed ecco il fischio finale per quello che vale. Di domenica ha la partita alla steca contro il Mexico.